Bene ragazzi, riprendiamo l'avventura di metro, siamo all'interno della metro di questa città radioattiva dove dovremmo forse riuscire a trovare la cura per la nostra amata Anna e siamo qui con il colonnello che si può rompere un po' le pelle Ma dai, ma dai, ma si può morire per questi qua che sputano Allora abbiamo i vermetti schifosi Non è che qua posso fare qualcosa Tipo attivare Abbiamo i vermetti schifosi L'unica cosa che possiamo fare per non sprecare un medico Una cosa che possiamo fare per non sprecare un medico è sprecare dei proiettili Quindi non ci voglio di prendere danno Per questi tizi Guarda lì sono morto Sono morto ancora Fanculo che palle Che palle Cambiamo strategia Spariamoci sto medico Teniamoci proiettili Proviamo a fare un Proviamo a fare una roba dove andiamo più velocemente possibile Ehm Allora è tutto buio Magari Se mettiamo Se mettiamo Se mettiamo il visore notturno Magari loro non ci vogliono No Dai guarda non rompere ragione Va questo mi prendo sempre Torca puttana Se rompi i balli No a modo muoio fa un culo assurdo per questi stronzi assolutamente niente da fare dobbiamo fare questa cosa noiosissima un cappo dobbiamo fare questa cosa noiosissima dove ci diamo i vermetti spariamoci anche una siringa perchè non ho voglia sinceramente di rifare questo pezzo per la quarta volta guarda qui lì pronti a sparchiare lì non sa proprio di proiettelio guarda c'è ancora più basso non ci pensiamo più non ancora ci sono guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì sto facendo fuori sto facendo fuori un caricatore per queste torca vacca faccio anche una roba da raccogliere vabbè andiamo ora però me la faccio tutta sparata guarda guarda lì guarda lì guarda lì guarda forse ce l'abbiamo fatta oh c'è il bischione, porca, troga ci sono i bischi, vizio, quanti sono che arcavato c'è un cuore c'è un cuore mamma mia che brutta situazione basta facemi raccogliere i miei fogatti mi prego per un attimo qui secondo me ci stava anche provare a fuggire oltretutto abbiamo anche il tempo oh merda no vabbè raga ma che ha? ma davvero? poi questi sputano non puoi neanche adesso voglio provare a usare il visore notturno cosa succede se io prendo la barca e me ne vado? ah manco di prendere la barca ok Posso ripartire solamente una volta delle sconfette, ci buttiamo su il visore notturno, tanto adesso noi sappiamo che questi escono, quindi speriamo di travolta attivare il visore notturno. Grazie. Tanto questi continuano ad arrivare. Ma cazzo, non è che per la pancia di qualche mostro? No, ma questo è un treno. No, vabbè, è troppo difficile sta parte, però... Cioè, troppo difficile. A questi qua, gli basta un colpetto. Non c'è bisogno di sparare un miliardi di colpi. Qua è tutto chiuso. Vedete? Con un colpetto se ne manda. Eh, che cazzo, però... Minchia, non può sbagliare niente. C'è neanche proiettile. Ma va, questo non muore. guardalo. Ma cos'ho fatto? Per forza. Per lo meno droppano. Oh, e basta! Ricarichiamo un attimo qua. Perché adesso escono. Sparo uno, arriva l'altro. Assurdo, raga. Senza proiettili davvero. Non è fattibile. Con la maschera che si sta... spaccando. Con la maschera che si sta spaccando. meno male, meno male che c'è almeno delle robe d'ossigeno ecco, bisogna trovare la moda di tirare la giusta scala ecco, andiamo verso i mustri marine allora, questo qui è collegato ma basta serviamo un attimo ma basta perché ti rompo gli attiri ah, di qui oh, e basta basta ma non ce la faccio più, raga, risparmiare in quegli attiri voglio scaricare tutto quello che ho ho proprio la cosa di sparare a manetta una bella sessione di shooting, secondo me la potevano mettere dove si scatenavano un po' che pazzesca rara ah, santissimo sentissimo aiutano vedo passare qui dentro no, mi sbucano no, mi sbucano no, mi sbucano da sotto oh, che palle andiamo andiamo mamma mia, che schifo che schifo andiamo a provare a tirare giù quella trave ne so andiamo al giù cerchiamo di sparare la mia volta il possibile ho trovato una granata non lo scendiamo vabbè bastida mi trego Ah, mi trego ti prego Dai non li ho rompere le spalle No 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 avete capito che comanda bischoni schifosi io non c'ho dei proiettili non mi fermo neanche a prendere questo non mi interessa, voglio andare da qua c'ho la maschera distrutta senza shadow non succede qualcosa siamo all'esterno il treno? forse l'aurora? questo è succedendo non sono allucinazione ma sono allucinazione probabilmente dai su, svegliati io non ci accioniamo non c'ho neanche la maschera questa non ci accioniamo 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 ma c'è una luce in azione sta diventando un attimo Vediamo che sto ci morto Vorrei per me dipogliatelo e ci va per l'autogramma dai teniamo le azioni per favore adesso è stato bravo mi sembra di averne consumati davvero pochissimo sono stato super attento tipo lì forse posso entrare mostro tanto l'ossigeno no però per prendere due pezzi due rottami non posso consumare tutto tutto l'ossigeno che dicono si ho chiuso le entrate cos'altro potevo fare da quando è iniziato l'allarma che ne sei stato lì con le mani in mano mentre io ero di guardia all'entrata stava succedendo di tutto i borghi pazzeschi incidenti tutti sono impazziti non sarò qua a farmi giudicare la data avevo 5 soldati non siamo riusciti a resistere 5 per studi rimaste schiacciate contro un muro in quella galca ha iniziato a sparare in aria la falla è forse indietro 5 per studi rimaste schiacciate cambiamo la bomba allora ma aversi l'ha No ma ovviamente sto deteriorando, non penso che si mettono a parlare. Soprattutto sono pure senza munizione. Soprattutto sono pure senza munizione. Ma che sta succedendo? I'm not going to be here. Qui è Miller, ti ricevi? Mi è scortento a sentirla, troppo interferente, passo Contattario, tutto bloccato, otto tempo Non la ricevo, colonnello, in perno, passo Contattato Non ho capito, colonnello, mi provo, passo Se mi ha fatto fare questo giro qui non ci metto da prendere, guarda Siete scandalose Magaramente? Non mi avete fatto prendere niente, porca vacca Mi ha perso sull'ossigeno Adesso non è che posso star lì a controllare ogni singola cosa Interruttore Interruttore Facciamo anche un salvatto, ok sto salvatando, forse Se li prendiamo Vediamo qualche minuto, vediamo se riusciamo a Va, ossigeno Va, 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 va Che bello Wow Si ma questo qua non l'ho aperto ho attivato qualcosa non ho capito cosa ho attivato forse sarebbe dovuto tornare indietro a controllare allora dato che ho l'ossigeno cosa? secondo me dovrei tornare indietro tantissimo vabbè dai dovrebbe aver attivato la corrente qualcosa dai vanno in un'altra minuta io direi che cosa vuoi? ci potremmo anche se sta durando tanto sta cosa quindi vi invito a supportare il canale commentaci l'inscrizione ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao